Una giornata surreale, quella del 22 febbraio per Arezzo e gli Aretini. Qualcuno ha diffuso su Facebook la notizia che il famosissimo attore Leonardo Di Caprio fosse in città. Ovviamente è un VIP hollywoodiano importante, noi riconosciamo anche, io lo apprezzo molto per il suo impegno sociale, ecco, si batte molto per i cambiamenti climatici, quindi mi piace molto come personaggio, sfrutta la sua visibilità bene e quindi siamo venuti a curiosare. Certo, la notizia che lo stesso Di Caprio interpreterà un film su Leonardo da Vinci ha contribuito ad alimentare la veridicità delle segnalazioni, rivelatosi poi tutte delle macroscopiche bufale. Come questa foto pubblicata da un cittadino sul suo profilo Facebook, affermando che l'attore era appena stato a pranzo in un noto ristorante a Aretino, in realtà la foto è stata scattata ad agosto a Capri. Tante le persone che prima in Piazza Grande, poi di fronte ad un ristorante ed infine di fronte a questo hotel che si sono appostate in cerca di un autografo o di un selfie con il bel Di Caprio, tornando a casa però amaramente a mani vuote. Allora, sono qui per caso perché sono arrivata oggi da Napoli e ho saputo che ci stava Leonardo Di Caprio, studio recitazione e quindi, cioè, come non posso stare qua? Dicono che alloggia qui, però non si sa, stiamo aspettando e speriamo di incontrarlo. Il bel Di Caprio alloggia qui nel vostro albergo? No. Ma come ve lo spiegate, queste notizie che sono uscite, soprattutto tutti questi ragazzi? Siamo i migliori in città. Potrebbe essere realmente in città Leonardo Di Caprio? La giornata si è conclusa con la pubblicazione di questo simpatico fotomontaggio sul gruppo Facebook 6 di Arezzo Se. Le buche, possiamo confermare, sono tutte vere.